Salve amici del Centro Medio Italiano, tempo instabile sull'Italia anche negli ultimi giorni di primavera meteorologica. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per giovedì 30 maggio. Al mattino possibili piogge sul medio versante adriatico e localmente sul Lazio, tempo asciutto altrove con nubi sparse. Instabilità in aumento al pomeriggio con acquazzoni e temporali specie al centro-sud. Qualche fenomeno anche al nord-est più stabile sulle altre zone con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e nottata residui precipitazioni su Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata, con il tempo che tornerà a migliorare su tutta Italia dalla nottata. Concludendo con le temperature, le minime sono attese in diminuzione mentre le massime aumenteranno specie al nord sul versante tirrenico. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate come sempre sul nostro sito oppure sulla nostra App Meteo. Un saluto da parte del Centrometro italiano.